Il Comitato Zona Disaggiata dà già appuntamento al 19 dicembre alle ore 11 in Piazza Duomo, dove partirà il corteo che attraverserà la cittadina da Corso Umberto I al Corso Margherita fino ad arrivare all'ingresso principale dell'ospedale Fratelli Perlapiano. Con lo slogan Un'ora di protesta per salvare l'ospedale di Ribera, i rappresentanti del Comitato chiedono al Governo regionale la definitiva riapertura del pronto soccorso e dei reparti primari di un ospedale di base. Ribadiscono che lo prevede la legge che consenta alle zone disagiate, come quella dell'area interna delle terre sicane, il mantenimento delle strutture ospedaliere in deroga quindi alle previsioni della rete ospedaliera regionale. Di più, il Comitato Zona Disaggiata sostiene che ripristinare l'ospedale di Ribera con tutti i servizi essenziali è necessario per non sottoporre l'ospedale di Sciacca stress sanitario. Fanno riferimento alle situazioni che riguardano in particolare il pronto soccorso del Giovanni Paolo II e che sono legate alla carenza di personale, ma anche agli accessi nell'area di emergenza urgenza ormai insostenibile che superano, dicono, di molto e limite proprio per la buona funzionalità di un qualsiasi pronto soccorso. Il Comitato Zona Disaggiata sostiene che l'ospedale di Sciacca non può e non deve gestire un bacino di utenza così grande, più di 150.000 abitanti tra il circondario Riberese e quello Saccense, e annuncia di aver lanciato da qualche giorno un nuovo hashtag, Ribera e Sciacca una voce sola. Non si può non avere una strategia comune, aggiungono affinché sul tavolo del nuovo Assessore alla Salute arrivi una proposta varia, ma che punti al potenziamento delle due strutture ospedaliere attraverso una differenziazione dei reparti. Intanto la manifestazione annunciata per il 19 dicembre a Ribera è finalizzata a far riconoscere il Fratelli Parlapiano come ospedale di zona disagiata per riaprire, scrivono i promotori, il pronto soccorso e i vari reparti primari. Tutto questo con la rifunzionalizzazione post-covid che prevede la terapia intensiva e subintensiva, le malattie infettive, la pneumologia, la geriatria, medicina generale, la chirurgia generale e i servizi annessi di cardiologia, radiologia e patologia clinica.